In questa giornata, dedicata alla riflessione sul drammatico fenomeno del femminicidio, gli studenti del Pumiglio di Chieti, guidato dal dirigente scolastico Anna Maria Giusti, attraverso letture e approfondimenti e un allestimento sulla scia di Zapatos Royos, hanno ribadito che gli abusi di ogni tipo costituiscono una violazione dei diritti umani, un impedimento del principio di uguaglianza e un ostacolo alla formazione di una coscienza personale e sociale fondata sul rispetto della persona umana. Mi sono profondamente convinto in questi anni in cui, prima di diventare prefetto, ho svolto le mie attività nella Polizia di Stato. Io penso che per quello che riguarda la violenza verso il prossimo, verso le donne in particolare, non è necessario concentrarsi su provvedimenti sanzionatori, su pene, sull'aumento delle pene, sull'inaspiramento delle pene. Bisogna concentrarsi su un discorso culturale, che lo so che è un po' difficile dirlo, perché a volte è più facile dirlo, come qualcuno dice, che farlo e metterlo in pratica. Ma il discorso culturale parte dalla base. La scuola, ovviamente, è uno dei veicoli principali attraverso il quale diffondere quello che è un sentimento profondo che nell'animo di ognuno di noi deve esserci, quello di rispettare il prossimo. E questo prossimo, rispettare le donne, diventa, voglio dire, una priorità assoluta. La scuola è il luogo principe dell'educazione, dove praticamente si fa un discorso di inclusione, di rispetto, di educazione, di regole. Però le regole che devono diventare valori, non regole imposte. E quindi, secondo me, il discorso principe di questa giornata è proprio la valorizzazione del rispetto in tutti i sensi. Il servizio Informa Giovani che da anni è un presidio permanente di ascolto, incontro, orientamento per le giovani generazioni e in particolare oggi ci occuperemo di parità di genere, di diritto alla formazione, all'autodeterminazione, con particolare riguardo alle donne, alle giovani ragazze che molto spesso si trovano in difficoltà proprio perché non hanno la possibilità di scegliere autonomamente oppure liberamente il proprio progetto di vita.